Noi siamo persone e amiamo essere collegati, siamo uniti come famiglie quando c'è una nascita, ci connettiamo agli amici con un clic e ci colleghiamo come chiese perché questo ci sta a cuore, gli avventisti sono persone collegate in comunità chiamate chiese che a loro volta si uniscono a formare campi che si collegano insieme per formare unioni, divisioni e la conferenza generale. E come mai ci colleghiamo? Tutto comincia con il contatto col creatore che ci invita ad un viaggio spirituale e se viaggiamo insieme possiamo aiutarci gli uni gli altri durante il cammino, questo è un viaggio, un viaggio che dura per tutta la vita e mentre impariamo e cresciamo la vita si riempie di significato e di scopo. La nostra gioia più grande è aiutare gli altri durante il cammino e dovunque tu sia nel tuo viaggio pensiamo di avere qualcosa da offrire anche a te, qualcosa che possa rendere più piena la tua vita. Così la prossima volta che vedi un avventista ricorda davanti a te non hai qualcuno che ama stare solo. Gli avventisti fanno parte di una chiesa mondiale che ha 18 milioni di membri raccolti in 13 divisioni che comprendono 122 unioni formate da 600 conferenze o campi che servono 140.000 chiese in 208 paesi e adorano in 924 lingue e tutti vogliono collegarsi e adorano in 208 paesi.